Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo la prima maglia della Croazia per la stagione 22-23 per i mondiali in Qatar che si stanno disputando, in versione player, la maglia dei calciatori. La maglia da calcio home Nike Croazia 2022 porta un'interpretazione insolita della iconica dama bianco-rossa. Nike combina i colori principali con Battle Blue per le applicazioni. Mentre le maniche della maglia da casa della Coppa del Mondo della Croazia 2022 sono caratterizzate da pedine regolari, la parte anteriore è prevalentemente bianca con molte delle pedine rosse tralasciate. Dal punto di vista del modello, il kit utilizza la stessa base delle altre maglie della Coppa del Mondo Nike 2022. Il pannello sotto il colletto posteriore è bianco. Completano il nuovo kit casalingo pantaloncini e calzettone bianchi con un motivo un po' a scacchiera. La maglia Authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. Decisamente bella! Nella mia classifica questa prende 4 stelle. fatta molto bene, vi ricordo che la versione player come questa ha una vestibilità molto attillata, aderente, quindi prendete sempre una taglia più alta. Qui in alto vedete il costo che per una maglia player in versione player fatta così bene con tutte le rifiniture così è veramente basso. In descrizione vi ricordo che trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia che peraltro arriva anche con dei tempi di spedizione molto buoni. Questa è arrivata in 24 giorni. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità, quindi continuate a guardare il video. Nel frattempo vi prego di lasciarci un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.